ricettina facile facile veloce super versatile una pasta biscotto al cacao che potete utilizzare con qualsiasi crema voi vogliate ideale per questi giorni di festa per il dolce dell'ultimo minuto perché si prepara davvero in un batter d'occhio cuoricini belli ma andiamo a vedere subito come realizzarlo però prima vi ricordo che se volete farlo come base pan di spagna potete raddoppiare la dolce così che vi viene un po più altino ok quindi iniziate subito ad andare a mettere nella ciotola della vostra planetaria due uova della misura l due grammi di sale come sempre un po di sale ci sta un po di estratto di vaniglia aggiungiamo anche 40 grammi di zucchero e 25 grammi di miele quindi andiamo ad inserire la frusta a palloncino andiamo a far montare il tutto alla massima velocità per 45 minuti circa nel frattempo che la massa di uova zucchero e miele monti andiamoci a mettere in una ciotolina 60 grammi di farina 00 13 grammi di cacao amaro e un cucchiaino di lievito per dolci andiamo a mescolare il tutto così che le nostre polveri siano poi omogenee e trascorsi 4 minuti ecco come deve presentarsi la nostra massa andiamo a spegnere la planetaria e andiamo ad inserire le polveri a mano così evitiamo che il composto smonti quindi inseriamo le nostre polveri setacciandoli prima e poi aggiungiamo anche 20 grammi di latte gli ingredienti devono essere tutti a temperatura ambiente mi raccomando carusi beddi mescolate il tutto con una frusta a mano facendo movimenti dal basso verso l'alto mi raccomando state attenti a non smontare il composto questa è la consistenza che dovete ottenere quindi andate a foderare una placca da forno con della carta da forno vi consiglio di andare a bagnare un po' la teglia così che la carta da forno aderisca bene andate a versarvi sopra il composto potete aiutarvi con una sac a poche con bocchetta da 4 mm solo se l'avete oppure fare così in velocità come faccio io però se usate la sac a poche vi viene tutto omogeneo il vostro biscuit il vostro pan la vostra pasta biscotto al cacao quindi andate a stendere bene con una spatola e andate a mettere in forno a 190 gradi forno preriscaldato per 8-9 minuti massimo ed eccolo qui prontissimo la nostra base biscotto al cacao buonissimo se volete la ricetta di quello alla vaniglia la trovate giù nella descrizione del video nel mio canale youtube comunque ragazzi adesso non vi resta che andare a fare un leggero spolvero di zucchero semolato così da creare umidità e rimanga più morbido dopodichè lo andiamo a mettere un canovaccio pulito andiamo a capovolgere ed eliminiamo ancora da caldo la carta da forno quindi andiamo ad eliminare la carta da forno e magari le parti più secche come avete visto tagliatele prima e andiamo a mettere un altro leggero spolvero di zucchero semolato quindi andiamo ad arrotolare il tutto sul nostro canovaccio in 10 minuti è freddo ma nel frattempo così già prende la forma di rotolo se lo volete fare a rotolo se vi consiglio di utilizzare questa base anche come pan di spagna veloce e farlo così a disco e poi andare a coppare la forma che vi serve però vi consiglio di raddoppiare la dose così che la base viene un pochino più spessa ovviamente cambieranno i tempi di cottura ci vorranno 2-3 minuti in più comunque ecco qui la nostra base biscotto io l'ho fatta seccare un pochettino in più voi non fatelo a voi vi ho dato i tempi di cottura perfetti e spero che la ricetta vi sia piaciuta e che vi sia utile io vi mando un grosso abbraccio caro si di beddi buone feste buone feste e alla prossima dalla cucina del cuore e sto pubblicando meno video perché ho ripreso a lavorare fuori e quindi vi chiedo pardon però non riesco a fare tutto però vi penso sempre vi mando un grosso abbraccio alla prossima ciao caro si beddi ciao 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 ciao